Ci vorrà ancora poco più di un mese per la completa riapertura del ponte Beli della Guadagna a Palermo, ma già gli abitanti della zona tirano un sospiro di sollievo. Il piccolo ponte di acciaio ed elementi modulari, costruito nel 96 dall'esercito, nato come provvisorio ma poi diventato definitivo, da allora collega strategicamente due importanti zone della città, ovvero la Guadagna e la zona intorno alla stazione centrale, esattamente nella parte dove si trova un ospedale civico e policlinico. Dopo la chiusura per lavori di manutenzione straordinaria iniziati nel novembre scorso, gli abitanti, per effettuare un tragitto di pochi minuti, erano costretti ad imbottigliarsi nel traffico per aggirare il fiumo Reto. Adesso sono iniziati i lavori di pulizia e a breve verranno effettuate le verifiche tecniche per la riapertura prevista tra una ventina di giorni. Ma la posizione strategica del ponte sta rendendo necessario non solo la riapertura, ma anche lo studio di un possibile ampliamento a doppio senso di percorrenza per snerlire ancora di più la pesante circolazione della zona Guadagna anche alla luce dell'apertura della nuova stazione.